Allora, mister, un commento a questa cinquina a Camporosso. L'abbiamo fatta, abbiamo giocato anche abbastanza bene e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, a parte il risultato. Ci serviva la vittoria, il risultato un po' troppo rotondo, mi dispiace per gli avversari, ma non potevamo farlo diversamente. Quindi classifica corta, la soluzione per poter portare in porto questo campionato da qui alla fine è vincerle tutte. Bravo, dobbiamo vincere tutte, perché all'andato sono delle partite che abbiamo vinto tutte, dobbiamo essere quelli dall'andato, che un po' ci abbiamo mollato. Speriamo che l'hanno capito che la Pasqua porta bene, dopo il riposo ripartiamo.